Cinematografo e cinema ma è anche fiction, la fiction di Rai 1, grande successo, la fiction della Rai, c'è molta attesa per una fiction che vedremo tra poco. È una saga familiare che parla di questa famiglia italiana, Ligure, tutto ruota intorno alla produzione e alla vita, che ruota intorno al profumo fondamentalmente. Simon Grechi, poi c'è Maria Luisa De Crescenzo, stiamo sempre parlando di Rosso San Valentino, che vedremo proprio su questa rete. Prima puntata, quando? Il 23, martedì 23. Martedì, in prima serata. Io interpreto Flavia Danieli, la figlia di Giorgio, uno dei due figli, è una ragazza di 16 anni, una ragazza in piena adolescenza, che è molto testarda e cocciuta, tanto che decide di smettere di andare a scuola e viene appunto mandata dal nonno a lavorare nell'azienda di famiglia anche a lei. Avrà una storia d'amore con il fratello di Laura, la protagonista, abbastanza... Una storia un po' contorta, vero? Sì, parecchi... Sono intrecci amorosi, io faccio la parte del cattivo, tra virgolette, quindi diciamo rendere tutto un po' più brioso e però si ruota tutto intorno ad un amore, fondamentalmente. E' divertente, insomma, grazie a Fabrizio Costa siamo riusciti a farci il regista un prodotto credibile, speriamo, insomma. E a proposito di lei invece, quale film sceglie? La vigna, lei invece? Razza Bastarda, mi colpisce in particolar modo la trasposizione cinematografica di un tasto teatrale. Anche io Razza Bastarda perché li ho seguiti a teatro a Latina quando avete debuttato, quindi sono curioso di vedervi. Simon, sentiamo lei invece, Maria Elisa. Razza Bastarda e anche la casa, sarei curiosa di andare a vedere.